Oh, qua ci stanno tante stanze qua dentro Occhio, c'è un zombie dietro Eh, questo è un buon posto, i generatori Sì Qua pure ghiaia, calce, non so, secondo me serve a qualcosa sta roba Ah, sì No, eh, ma qui c'è da venire con la macchina Dobbiamo trovare il carretto Eh, abbiamo pure il pick up di là Eh, ma in due ci mettiamo 300 anni Queste robe sono tipo... Per colorare casa Vernici Sì, ma io adesso che mi ricordo qua ci sono già stato Sì Sì, 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 l'ho già vista Sì, 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 sì Un bel posto questo Però Non c'è la cosa che non trovo mai Cioè? È il martellone Lui a due mani Non so come cazzo si chiama Perché non l'ho mai trovato in italiano E sì, jammer si chiama in inglese Io mi sembra che la partita che stava in solo l'ho trovato proprio a una delle prime case Oh cazzo! Porca puttana! Che sbocco No, no, io mai visto questo che cazzo è un buono Non so perché Dove cazzo sta? Parti di ricambio del motore, porca miseria Sì Quindi proprio robe da meccanico Freni, madò, mamma mia Vecchio freno Parti elettroniche Io sta roba la prendo, tanto ce la faccio Sì, ce la faccio Sta roba sì, sta roba è normale Freganna da pesca, la vedo bene La pesca ne ho presi un paio, ce le ho È proprio Non male, quello lì si vuole più Ok, l'enza ce l'abbiamo? Sì, l'ho preso io, però boh, se non vuoi prendere ancora un Ok Tanto pesano poco Sì, infatti, ma la prendo Ho trovato un casco di occhi Pure il retardo di pesca la prendo Vaffanculo, dai Io ho preso un casco da occhi e un videogioco Ok Una cosa proprio utilissima Dai che così stremmiamo Allora Canna, canna Stivali militari, assolutamente Mettili Minchia, qua dentro c'è stato un botto di roba Gli stivali mi sa che erano i miei Ah, ti sei tolto Sono queste le scarpettine Delle lati da splu Che mi piacevano tanto No, però Ho lasciato un altro paio di stivali Infatti poi ho visto che Quanti cazzo di stivali ci sono Il generatore ce l'abbiamo? Uno a casa ce l'abbiamo Abbiamo fatto il casino ieri, ti ricordi, con la macchina Mi ricordo boccione il generatore Era tardi Boh, io direi che non c'è più in un cazzo Ci sta l'altra ala L'altra ala, o no? Secondo me dovremmo andare a prendere da mangiare Più che altro Ti dico la verità Un fucile Dovremmo andare a prendere da mangiare Cioè c'è un giretto No, l'altra ala non c'è Dov'è l'altra ala? Ah no? Ah no, è vero Pensavo che sia Tu hai visto pure queste stanze qua di fronte? Sì Ah, ok Ti serve da mangiare, te lo do io C'ho qualche scatoletta Eh, però Ho visto che a casa non è che c'è Ok Uh, ho trovato un fucile Una pistola Ammazza Allora, recuperiamo sto pick-up Ah sì, questo è importantissimo Eccolo Eh, infatti questa parte è chiusa Volevo capire che cazzo era Allora, c'è un'altra parte Però qui senza chiave Insieme ad un cazzo di party Cadabri li visti tutti? Eh, no Quelli che abbiamo appena fatto no Se faccio un giretto Ma farli entrare nella zona Di solito Se entra nella zona è meglio Eh, cazzo Saldatrice ho visto La saldatrice dobbiamo prenderla Assolutamente Ok Ok, presa Ok Ok, io mi riprendo sta macchina Allora Sì Guarda qui se c'è le chiavi Ah, cazzo Sai che dovresti vedere Se il cadavere mio per terra C'ha la tanica Perché c'ho la tanica dietro Ok Ti prego ti prego ti prego La tanica No, no, no Abbiamo perso la tanica Cazzo Veramente E non ce l'ha addosso Ce l'ha nella cartella Mi sa Sì, sì Nella cartella Ok Oddio Che culo Ma che frego Eh, ma come faccio Però a prenderci la roba dentro La devi mettere a terra La prendo io La prendo io Vai A posto Ok Dai Non male Qua che c'è Cos'è Ma quante belle macchinette No, solo una Oh, cos'è sta roba qui Che tipo Qualche Una scuola Cos'è Sì, una scuola Un ufficio Boh, non lo so No Andiamo via Guardali Guardali come corrono dietro Quale parte della città Vogliamo Dobbiamo andare a bussare la macchina E a sfruttare un po' di roba Ok Sfruttare un po' di roba Ma minchia Che trampata Ok No, se ne spengo mai la macchina Questo è pieno Questo è pieno La pistola rotta Ok Posso il freno Posso la lenza E posso la saldatrice Ok Ok Il cacciavite Ecco qua A posto Riempio l'acqua E arrivo Ma l'acqua finirà Fra un po', immagino No Sì Vai guida pura Andare Ma l'acqua finirà Ma nel caso non trovassimo nient'altro In giro Eh, beh, tanto Però è piena Ma è piena che cazzo la partiamo a fare così Pesa troppo La macchina ha un sacco di benzina Cioè cosa vuoi Ne troviamo una vuota e la partiamo al contrario Ok Vuole andare su? Eh, non lo so Vuole andare su Volevo continuare giù Eh, io volevo continuare giù A vedere un attimo Che c'è una zona industriale Mi sembra E andiamo giù No, giù di qua Eh, sì E' uguale Siamo nella parallela Sì, sì È la parallela Ti dico io C'ho la mappa aperta Vai sempre diritto Vuole controllare La zona qua giù Proprio questa qua C'è un sacco di stabili Grandi Cominciando Da uno giallo Che adesso Ti trovi sulla destra Ok Questo qui Non so che sia questo No, no, i coltelli Questo è Spianto la macchina Cos'è sta roba Vediamo Tanto vado a vedere se sta macchina Funziona No, è un bar Eh, ma il bar non c'è un cazzo C'è alcolici E ti sembra un cazzo? Sì Oddio, sì Potremmo festeggiare Però L'alcol potrebbe Io bevo Perché mi sembra che l'alcol Ma che ti fa stare un po' più felice Non mi ricordo Quindi il giallo sulla mappa Vuol dire alcol Alcol? Sì Allora Allora Il sabone Ok 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 Batteria Comunque questo penso che sia il gioco più figo di zombie che ho mai fatto Cioè proprio, non lo so, mi mette proprio dentro l'apocalisse Sì, sì, assolutamente Sì, sì, assolutamente La prima Questa è uscita da un po' d'anni, eh Non è proprio nuovo, no? No, amicchia Sì, sì 2000 Aspetta che ci avevano 2-3 punti 2012 Non vuol dire cazzate Eh Eh, quindi voglio dire No, ma poi ha avuto una storia incredibile Gli sviluppatori praticamente Si sono persi da La versione originale E a un certo punto E hanno dovuto Niente, non so se l'hanno persa E hanno rubato O si sono cancellati i dati E niente Hanno dovuto rifare il gioco da zero Però secondo me questa è stata la loro grande forza Perché è venuto più figo Ricominciandolo da zero Sì, sì Infatti io mi ricordo di aver giocato Secondo me io ci ho giocato tante anni fa Però non Mi ricordavo che l'omino era 2D Cioè mi ricordavo un altro Buoio bevo Vediamo se mi scendo un po' Infelicità Bisogno di contatto umano E di alcol Sì, sì L'alcol fa No, non mi è sceso quello Però sono ubriaco Fantastico Freccetta Un po' di pane Un po' di pane Ah, dai Scatola di viti Non male Pure questa comunque come base Non era brutta Bella grande Sì Cacchio, questa è una figa C'è i brandini militari Mi piace un sacco Cazzo Ognuno ha la camera sua Guarda là Sì, sì Questa è la top Non c'è la finestra vicino alla scala Sì Prove baggata Non è cosa da poco Ah, c'è una porticina qua in fondo Io mi do una sciacquata Magari mi passa la sbronza Veramente Sono sbronzo Veramente Veramente Un fail Vabbè, questo è proprio un rifugio da riempire Non è più che altro C'è dentro un cazzo Quindi la macchinetta l'hai fatta partire E' partita pure quella Quindi Un'altra macchina Andiamo Come è messa Fammela vedere Diciamo No, comunque Cazzo Voglio fare il meccanico La prossima volta Voglio giustare le macchie Beh, dai Non è malissimo Siamo toglie del gas Andiamo Vamos E niente Tutta la parte giù Ci sta Praticamente ci sta Questa strada qua davanti E poi la parallela Dall'altra parte Comunque adesso Non vi faccio vedere Ci sta Un po' di stabili grandi Penso che siano delle fabbriche Cazzo Però questa qua Il cofano 0% Proprio Sì Il cofano zintegrato Eh, qua Da sta parte Ecco Prima ci sta Gasgo E qua Potremmo trovare Dei ricambi per la macchina Forse Eh, non male Però Problema che dobbiamo No, gasgo Forse c'è la benzina No, quella è la benzina Ah, sì Qui ci Potremmo trovare Delle tanniche Vediamo Oddio Un altro pick up Io Sto gioco Le adoro Le macchine Tra l'altro Devo far benzina Pure a questa piccola Quindi Sarebbe Comoda Una tannichetta Evo Evo Tutte le mappe Ci sono qua Poglio tutto Buono Boh Non so che Quando vi è la corrente Ci devi mettere il generatore Se non Fai benzina Ok Ok Allora Visto che ci stiamo A me sto pick up Parcheggiato qua Mi tenta Io ci provo E' solo che stiamo In due In due o tre macchine La vedo difficile Allora quella piccolina Rimane qua Sarebbe Merda 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 Sponda il vetro Oh Boh 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 Puglia di Mario Munizioni Munizioni Pistola Dai Riservo Lo scotch Ci serve Ripara qualcosina La gomma Ok Ok Ma provo a farla partì oh questa baga è una meraviglia c'è pure il pieno quasi il pieno questa è andata non si accende più non si accende mamma mia andiamo? allora seguimi voglio vedere quest'altra parte qua su oh mamma mia dinner andiamo a vedere questo c'è cibo qua tanto cibo mazza teo sta mazza chiudata è fortissima l'ho fregata il tuo cadavere hanno graffiato nooo quanti sono? eh un bel po' dalla parte mia qua ah perchè c'ha il casco quel disgraziato si si che figata potremmo prendere il flipper e portarlo a casa speriamo che non mi hanno fottuto mo mi sono bendato ferite leggere mi dice ma no ma no esatto devo arsi se vuoi no se leggere tranquillo boh non è che c'è chissà chi qua no niente no veloci da che io in mezzo a stacco ti dico la verità perchè veramente ieri ho fatto tantissimo si si ma pure io pure io c'è un sonno oh aspetta un attimo cazzo fermo perchè mi hanno detto che i martelli si trovano oh figa no sono morto nooo che sfiga dove ci sono i lavori in corso coi tombini dovrebbero esserci martelli ah ok dove cazzo è il martello forse entrò sta macchina la minchia no dai vediamoli via che sfiga possiamo andare pure verso su andiamo a vedere altre cose qua qua sto qua eh oh no dai no dai no dai no dai no dai non dai non dai oh no dai ne sto qua non dai no dai mi riposto acquistl non lo so questo qua giù che posto sarà ma è sempre diverso eh sì ah no visto già lo pensavo che era lo stesso scusami non capivo va bene scendiamo macchina no non ho armi aspetta cazzo andiamo c'è un martello cos'è questo un ristorante ok penso di sì che non c'è un cazzo ok come quello di prima è proprio niente c'è solo arredato ma non c'è una cucina qua mh la cucina è enorme c'è la friggitrice marcio marcio crudo pollo pollo crudo marcio cazzo e un cazzo ok c'è un cazzo qua dentro dai direi che possiamo ancora tornare tanto ora che andiamo cosiamo niente un po' di roba l'abbiamo preso ok 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 vai accenditi no sono attraverso il posto ho sbagliato no questo qua invece che sarà un centro commerciale no eh non capisco ho preso ho preso il palo è un palo secondo me è un palo chi ha fatto palo allora questo qua è un neat video ah no cassette ci sono cassette cassette per imparare a a fare le robe cucina uh eh sì infatti eh blockbuster questo non è male perché non è male solo noi la corrente tra una settimana andrà via quindi ci facciamo poco questa cosa no sono un generatore ah ok vero sì quindi ci sarà tanta benzina lo sento lo zombie eh lo sento pure io ma non lo vedo mi ha detto questa porta qua che è sicuro 100% maledetto sono tre sono quattro cazzo esce 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 nooo sono morto sono morto erano in quattro sono un pirla nooo mi hanno massacrato mi hanno massacrato nooo che brutta fine che ho fatto non me l'aspettavo non me l'aspettavo non mi ho fatto lasciarlo proprio vabbè sì perché si sentiva la voce di uno solo non no ma poi anche quando ero spinti a terra erano due sono andato convinto poi schiacciò la testa ma che bastardo no l'idea di lasciarli impacchettati aspetta lascio in macchina no la macchina proprio no sto morendo sto morendo sto morendo non ce l'ho si ferma il sangue ti devono stracci vediamo le ho messi due tre danno molto critico quattro no ma giusto per farmi posare le robe in macchina da qualche parte no guarda te sti maledetti guarda te sti maledetti ti sei andato a suicidare la vendetta la vendetta mi hanno detto ancora mi ho morso la morca la morca la morca ma sono incazzosi questi oh uff poi dall'altro qua dentro non c'è un cazzo almeno c'è sono morto per due videocassette di merda che fine ingloriosa proprio eh oh minchia mi sono rilassato ho detto ma si ma figurati se qua è pieno di zombie oh era pieno di zombie è modalità costruzione è un cazzo il gioco basta che abbassi la guardia un attimo e ti fa secco si si ero troppo troppo sciallo niente io vedo se riesco a metterlo in macchina ma non credo proprio di arrivarci potrei posare tutto questo qua è il tuo piccappone mi apri dal minchia che fine che fine che fine aspetta sto a far giro attento zombie 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 no 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 aspetta 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 c'è il menu c'è il menu c'è ma questo qua dove cazzo è uscito da dove minchia è uscito questo stronzo ok allora aspetta come ti apro qua di aprire il menu quello lì del pad sai quello rotondo si e poi c'è apri apri tutte le porte però chiudi tutte le porte sblocca tutte le porte una sbloccata ok no king è viato al mezzanotte 31 progetto non ci credo allora no non me l'apre non so perché io non sono mai riuscito a riportare un bagaglio so se riesci a aprirlo tu c'è uno zombie ok a posto aperto no cosa sta succedendo è aperto si ok fammi posare dentro tutto ok tipo il zaino mi raccomando sta macchina riportare la casa sale salva si ci metto pure le chiavi che avevo raccolto un sacco di chiavi boh è finita è finita facciamo degli stracci non credo che serva molto faccio una mannaia vado con una mannaia e ammazzo quanti più zombie possibile ok non lo so io non entrerei mai vabbè potrei in macchina andare a me no sono morto sono morto vediamo se salgo in macchina ok io vado verso casa e vado a parcheggiare sta roba va si vabbè io vivo con te tanto non durerò molto cioè praticamente non ho vita ah ecco è infatti morto ciao ciao è nanna dentro la macchina accesa sono morto dentro la macchina accesa no sono diventato uno zombie dentro la macchina sono pericolosissimo cioè se tu entri dentro sta macchina sei fottuto no sono una bomba sono una trappola sono cazzo dobbiamo fare uno scherzone a king dobbiamo dire oh king vai a prendere quella macchina che famada vabbè voglio vedere cosa succede se ti fai entrare o esce subito direttamente lo zombie se ti fai entrare proprio infame muori proprio in realtà accorgi ti senti mordere e via dopo tre giorni diciannove ore e 65 giorni delle zombie uccisi vabbè dai la finaccia oh porca qua è tutto chiuso ci sta però via un sacco di macchine vedi a che servono uccisi uccisi Grazie.